Con buona pace di chi ha lasciato questo mondo, chi rimane deve purtroppo gestire parecchie situazioni del defunto, specialmente se si tratta di un familiare stretto o comunque di un parente prossimo. Allora, una domanda importante è cosa succede dopo che sei morto? Ci sono parecchie cose da sapere, ovviamente non ti parlerò di ciò che troverai tu stesso nell'aldilà, ma ci concentreremo sugli aspetti pratici della vita terrena che prosegue per i superstiti. Risponderò ai quesiti più frequenti, lo so, lo so, state facendo tutti quanti i dovuti scongiuri, ma a chi non piacerebbe sapere, al di là di una nuvoletta, cosa succede dopo che te ne sei andato? Chi piange, chi si risposa, chi parla bene e chi parla male di te, che fine fanno tutte le tue cose per cui ti hai ribattuto una vita intera? Beh, io vi darò quantomeno uno spaccato giuridico. Sigla! Questa è la legge! La morte di una persona avvenuta a casa viene constatata dal medico di famiglia, o, se non è reperibile, da un altro medico che redige un certificato di morte. Per chi muore in ospedale o in clinica, invece, sarà il personale sanitario incaricato a compilare i documenti. Per le morti violente o comunque sospette di reato, come incidenti stradali, infortuni sul lavoro, omicidi e così via, la salma viene messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per i necessari accertamenti, come ad esempio l'autopsia, e questa viene fatta a cura del medico legale incaricato. Le spese per il funerale, la sepoltura o la cremazione devono essere sostenute dagli eredi, e questo in proporzione alle rispettive quote. Ciascuno deve pagare una parte. Può però pagare uno solo per tutti, saldando interamente la ditta di onoranza e funebri, e poi rivalersi su tutti gli altri coeredi. Si può anche andare a conguaglio facendo rientrare il tuo importo nella massa dei beni ereditari che dovranno essere spartiti con gli opportuni conteggi. Infatti si tratta di spese che rientrano a tutti gli effetti nell'eredità da dividere. Per gli indigenti invece di solito provvede il comune in base a quanto stabilito nei regolamenti locali. La dichiarazione di successione, che è un adempimento di carattere fiscale, deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla data di morte se l'eredità comprende beni immobili di qualsiasi valore o un attivo superiore a 100.000 euro devoluto al coniuge e ai parenti in linea retta. Sono tenuti a fare la dichiarazione di successione non solo gli eredi veri e propri, ma anche i semplici chiamati all'eredità, cioè coloro che ancora non hanno deciso se accettare o meno. La presentazione da parte di un solo soggetto, tra quelli obbligati, libera tutti gli altri. Non c'è quindi bisogno né di autorizzazione, né che la facciano tutti quanti assieme. Presentare la dichiarazione di successione non significa che bisogna sempre pagare l'imposta di successione, le tasse. Anzi, in favore dei parenti più prossimi, cioè il coniuge, i figli, i genitori, i nonni e i nipoti, opera un'esenzione totale fino ad un milione di euro a testa. Oltre questa soglia si applica la tassazione al 4%. Per le eredità devolute a fratelli e sorelle, la franchigia esentasse scende invece a 100.000 euro e l'aliquota sale al 6%. Per i parenti fino al quarto grado si paga il 6% senza franchigia e per quelli più lontani, così come per gli estranei, la tassazione è all'8% senza franchigia. Se un erede è disabile, a prescindere dal rapporto di parentela, c'è una franchigia fino a un milione e mezzo. La voltura catastale, che di norma si fa quando una persona muore sui suoi beni immobili, serve a formalizzare il trasferimento delle proprietà di questi beni in favore dei nuovi intestatari, quindi degli eredi in base alle quote stabilite dalla legge o nel testamento. Attenzione però, perché se non avete fatto ancora l'accettazione dell'eredità, l'accatastamento a vostro favore di un bene immobile implica un'accettazione tacita, il che significa poi che non potrete più revocare l'accettazione dell'eredità e dovrete rispondere anche dei debiti lasciati dal defunto. La domanda di voltura catastale va inoltrata in via telematica all'Agenzia delle Entrate ed è integrata nella dichiarazione di successione, quindi non occorre fare una pratica a parte. Conviene affidarsi comunque a un tecnico dotato di un apposito software per compilare i campi necessari, senza timore così di sbagliare. Il testamento serve per disporre come distribuire le tue sostanze dopo che avrai cessato di vivere. Se fai testamento, l'eredità viene attribuita secondo le tue ultime volontà. Se non fai testamento, invece, le quote ereditarie sono stabilite dalla legge in determinate proporzioni in favore prima dei tuoi parenti più stretti e poi, eventualmente, se questi non ci sono, di tutti gli altri. Perciò, se non vuoi modificare le quote già prestabilite in loro favore dalla legge, puoi anche evitare di fare il testamento. Ma potresti voler lasciare qualcosa a persone strane al tuo nucleo familiare alle quali sei, magari, affettivamente attaccato. Oppure, magari, stabilire delle proporzioni diverse rispetto a quelle che prevede la legge. Ad esempio, preferendo un figlio rispetto a un altro. Con il testamento, entro certi limiti, puoi farlo. Esiste, infatti, la cosiddetta quota disponibile di cui puoi disporre liberamente. Puoi farne quello che vuoi, puoi lasciarlo a chiunque, salvo ai tuoi gatti, ma non puoi intaccare le quote riservate agli eredi legittimati. E chi sono i legittimati? Sono il coniuge e i figli, o in loro mancanza, gli ascendenti e discendenti diretti, quindi genitori, nonni e nipoti. È interessante notare che fratelli e sorelle non sono eredi legittimati, cioè a loro non spetta una quota riservata dalla legge necessariamente. In linea di massima ti conviene fare testamento quando hai molti beni e desideri dividerli in proporzioni diverse da quelle stabilite dalla legge, ma in tal caso devi stare attento a rispettare le quote dovute, come ti dicevo, agli eredi legittimati, che altrimenti dopo la tua morte potrebbero reagire in via giudiziaria per ripristinare quanto gli spetta esercitando le azioni previste in loro favore dal Codice Civile, e così fare causa a tutti gli altri coereni. Ricordati che gli eredi legittimari hanno ben 10 anni dalla tua morte per poter contestare il tuo testamento se questo non ha riservato loro le quote della legittima. Se non hai affidato il tuo testamento al notaio, ma lo hai conservato in una cassaforte o magari l'hai dato ad un parente o a un professionista o a un amico di tua fiducia, sarà questa persona, appena avrà avuto notizia della tua morte, a consegnarlo a un notaio e deve farlo per consentirne la pubblicazione. Se invece hai conservato il testamento tra le tue cose private, chi lo trova in qualsiasi momento, quindi poco dopo la tua morte o anche a distanza di tempo, è comunque tenuto a informare tempestivamente un notaio per provvedere alla sua pubblicazione. In tutti i casi, nascondere o alterare un testamento è reato. Te lo dico perché a qualcuno il tuo testamento potrebbe non piacere, specie se lo hai escluso dall'eredità o hai ridotto la sua quota. Per essere sicuro e tutelarti da scomparsi o falsificazioni del testamento, è sempre consigliabile affidarsi a un notaio che potrà anche suggerirti come redigerlo in modo appropriato e inoppugnabile. Se non vuoi far conoscere neanche al notaio il contenuto del tuo testamento, puoi consegnargli il documento in busta chiusa affinché lo custodisca e ne curi la pubblicazione solo dopo la tua morte. In questo caso si parla di cosiddetto testamento segreto. Il TFR, cioè il trattamento di fine rapporto che è stato maturato in favore del dipendente deceduto e accantonato dal datore di lavoro, deve essere versato, così come prevede il codice civile, al coniuge superstite e ai figli, ma solo se conviventi ed a carico del lavoratore, nonché ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo. Se questi soggetti mancano, le somme andranno agli eredi legittimi o testamentari in proporzione alle rispettive quote. Questo significa che se un lavoratore non ha moglie, figli e parenti prossimi, può decidere nel testamento a chi lasciare il suo TFR. Ricordati che anche chi rinuncia all'eredità ha comunque diritto al TFR. Normalmente le banche appena prendono la notizia del decesso del loro cliente, bloccano i suoi conti correnti ed anche i rapporti titoli o di deposito collegati, cioè li congelano per impedire operazioni e prelievi abusivi da chi non è legittimato o comunque non risulta tale. Di solito però alcune operazioni passano ugualmente e vengono eseguite anche durante il blocco, come ad esempio i pagamenti automatici disposti con RID, le bollette domiciliate e i bonifici periodici. Per sbloccare il conto corrente in favore degli eredi bisogna che questi esibiscano alla banca la cosiddetta dichiarazione di successione. Se la dichiarazione di successione manca perché non c'era l'obbligo di presentarla, bisogna comunque dimostrare alla banca anche con un'autocertificazione o se richiesto in forma di atto notorio con firma autenticata da un funzionario del comune la propria qualità di eredi e le quote spettanti. In occasione dello sblocco delle somme e si può chiedere anche la chiusura del conto corrente e di tutti gli altri rapporti collegati, attenzione, la banca non può chiudere il conto corrente soltanto perché è venuta a sapere che il suo cliente è deceduto. Il conto corrente quindi prosegue in favore degli eredi e saranno questi che decideranno poi se continuare il rapporto oppure chiuderlo. Se il conto corrente era cointestato, al momento della morte di uno dei contestatari la banca può bloccare solo la sua quota e non l'intero ammontare del conto. Ad esempio in un conto cointestato tra padre e figlio, quando viene a mancare il primo, la banca può congelare solo il 50% delle somme depositate, mentre invece l'altra metà si presume di proprietà del figlio e quindi deve essere disponibile per quest'ultimo. Lo stesso vale per un conto cointestato fra due coniugi, uno dei quali decede. L'eredità comprende non solo le attività, cioè i beni mobili, gli immobili, le auto, il denaro contante, i depositi in banca e così via, ma anche le passività, cioè i debiti, ad esempio le rate del mutuo di finanziamento ancora da rimborsare, le bollette per le utenze domestiche, le quote condominali, i lavori da pagare, l'imposta delle tasse e chi più ne ha più ne metta. Anche le passività però si trasferiscono agli eredi, ma a differenza delle attività, le passività si dividono per gli eredi in base alle quote. In altre parole, il creditore può richiedere da ciascun erede solo la parte del debito che corrisponde alla sua quota, non gli può chiedere l'integrale del debito. Fanno solo eccezione le imposte relative ai redditi del defunto, l'IRPEF, che questi ancora non aveva pagato, è l'imposta di successione per le quali l'agenzia delle entrate può chiedere l'integrale importo a ciascun erede. Ricordate che per tutelarvi dai debiti del defunto potete anche accettare l'eredità con beneficio di inventario. Che significa questa formula? Significa che il creditore potrà pretendere da voi soltanto i beni che avete ricevuto con l'eredità, vi faccio un esempio. Se con l'eredità avete ricevuto un immobile e il debito lasciato dal defunto era di un milione, il creditore potrà pignorarvi soltanto l'immobile, ma non anche ad esempio la vostra casa personale o il conto corrente di cui eravate titolari già prima dell'accettazione e l'eredità. L'accettazione con beneficio quindi costituisce una forma di garanzia. Allora voi vi chiederete, ma perché allora nessuno fa l'accettazione con beneficio di inventario? Beh certamente perché è più onerosa, implica una serie di adempimenti. Insomma, che seccatura! Ritorniamo al pagamento delle tasse. Vi ho detto che soltanto per quanto riguarda le imposte sui redditi e l'imposta sulla successione sussiste una responsabilità solidale di tutti gli eredi. Significa che il fisco può chiedere l'integrale somma a ciascun erede. Per tutte quante le altre tasse non corrisposte dal defunto, ciascun erede ne risponde nei limiti della propria quota. Ad esempio, poniamo il caso dell'Imu o dell'Atari, ciascun erede non può rispondere dell'integrale debito. Per cui se uno degli eredi non paga la sua quota, gli altri non rischiano assolutamente nulla. Immaginiamo che due eredi subentrino nella proprietà della casa del papà. Il papà non aveva pagato l'Imu. Ciascuno dei due fratelli dovrà pagare soltanto il 50% del debito imu lasciato dal padre. Cosa diversa riguarda invece l'Imu che scade dopo il decesso. In questo caso c'è una responsabilità solidale di tutti gli eredi perché sono intambi contitolari dell'immobile e nel caso di comproprietà c'è una responsabilità solidale. Se il defunto ha lasciato una serie di multe stradali perché alla guida non era il migliore dei conducenti, sappiate che queste multe non devono essere pagate agli eredi, così come tutte le altre sanzioni amministrative, penali o tributarie. Queste non si trasferiscono, quindi potete chiedere lo sgravio all'agente della riscossione incaricato per il recupero di queste somme. Dopo la morte del contribuente, le cartelle di pagamento che sono a lui destinate, vengono notificate agli eredi collettivamente ed impersonalmente, quindi non più al nome del defunto, ma premettendo la qualità erede di Mario Rossi e presso il suo ultimo domicilio. Trascorso invece un anno dalla morte, la notifica deve essere fatta direttamente ai singoli eredi, al loro rispettivo indirizzo. Ma se gli eredi hanno comunicato all'Agenzia delle Entrate il decesso del contribuente ed i propri dati, la notifica della cartella può essere fatta direttamente nei loro confronti anche durante il primo anno. La violazione di queste regole consente di far annullare la notifica della cartella proponendo un ricorso al giudice tributario. Bene amici miei, adesso saprete che cosa succederà quando sarete morti. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.